Monari, il segretario scientifico del centro psicoanalitico di Bologna, l'ha definito un caso psicoanalitico che si legge come un romanzo noir. Montecchi, che è il presidente della scuola Bleger di psicoanalisi, ha detto che è una indagine in cui la parte di Sherlock la fa un gatto. Quale gatto si chiama Freud ed è il gatto di uno psicoanalista? Sì, io sono psichiatra, sono psicoterapeuta e dopo tanti anni in cui mi sono occupato di supervisioni, discussioni e casi, mi sono convinto che il caso psicoanalitico è un genere letterario a sé. L'io narrante è il gatto, il gatto dello psicoanalista che è anche l'investigatore e questo espediente letterario mi ha permesso di scrivere il romanzo con un po' di calviniana leggerezza e rendendolo accessibile anche ai non addetti ai lavori. I temi quindi del volume si vanno a mescolare con quella appunto che è la sua professione, il suo incarico professionale? Beh sicuramente, io sono decenni, ahimè ormai, che faccio lo psichiatra e lo psicoanalista e ci sono veramente decenni di storia. È un caso clinico, è un caso clinico inventato che però contiene tante situazioni in cui mi sono imbattuto nella mia professione. E ci sono di mezzo episodi inquietanti, ci sono di mezzo situazioni che hanno suspense, essendo un noir, essendo basato sulla suspense, grandi anticipazioni non lo faccio, non le faccio. Non è la sua prima pubblicazione e oltre queste ricordiamo anche un importante concorso dedicato alla poesia. Grazie, sì, è il mio secondo romanzo breve, il primo sempre dal titolo si capisce qual è il filone, antipsichiatria extragalattica. Ho scritto poesie e ho organizzato due concorsi letterari nazionali, uno con fare editore di Rimini per poesie e racconti dedicati a combattere lo stigma. Il concorso venne premiato con medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica, il secondo con Raffaelli, editore di Rimini, rivolto a tutti i pazienti psichiatrici in carica di servizi in tutta Italia. Un concorso di poesia, le poesie migliori sono state scelte da una giuria di qualità, tra cui c'era anche l'urbinate Piersanti e sono state pubblicate in un'antologia.